Oggi torniamo a parlare di una novità interessante, è di Hisense, arriva quindi dalla Cina, si chiama C30, meglio conosciuto come The Rock. Questo è un prodotto che vi mostro immediatamente, ha una caratteristica peculiare particolare, cioè il fatto di avere una certificazione IP68, quindi vuol dire una struttura rinforzata tra l'altro e una resistenza a acqua e polvere superiore alla media. Se diamo un occhio alla scatola, alla confezione, abbiamo all'interno, oltre allo struttura già bella rinforzata del telefono, anche una cover in silicone. Queste secondo me sono tra le migliori in assoluto, perché comunque non alterano più di tanto l'aspetto del telefono, ma danno una grandissima protezione. E poi carica batterie, cavo e cuffie, vedete in questi casi io, devo dire, quando provo il telefono ormai non tiro più neanche fuori queste cose, perché insomma ne avrò decine a casa. Allora, il telefono in sé. Diciamo che le caratteristiche tecniche per questo oggetto che trovate sul mercato intorno ai 250-260 euro, non sono sicuramente quelle che probabilmente vi faranno scegliere di acquistarlo. Credo che il vero elemento di differenziazione sia la caratteristica della certificazione IP68. Certificato per acqua e polvere, tra l'altro una struttura anche rinforzata, e se la guardiamo da vicino tra l'altro una struttura anche carina. Vedete sul retro una trama che richiama alcuni Blackberry di un po' di tempo fa, c'era anche un Motorola, un modello di Motorola che aveva questo genere di trama. Poi sulla parte invece di profilo c'è questa zigrinatura sulla parte superiore e inferiore che dovrebbe essenzialmente dare un grip maggiore, e poi sulla parte laterale invece un profilo con un colore rame dorato che spicca molto, secondo me, sul nero. Diciamo che insomma non è esattamente la scelta più di mio gusto dal punto di vista estetico. Proprio per l'estetica, allora vi faccio notare, attacco per le cuffie da 3,5 mm, su questo lato il pulsante di accensione, il bilanciere del volume che sapete per noi si chiama sempre e solo volume rocker, il tasto dedicato per la fotocamera, che insomma è una scelta piuttosto bizzarra, nel senso originale, perché a parte Sony sono pochissimi produttori che scelgono di averlo, nulla su questo lato, quasi invisibile il cassettino che vi permette di inserire due nano SIM o una nano SIM con una micro SD. Vedete anche qui le chiusure con questi, diciamo, tema, con questo colore rame oro che insomma non è esattamente di mio grandissimo gusto, però tutto sommato insomma qualcuno potrebbe anche piacere. Il telefono diciamo che per avere un display da 5,2 pollici ha una dimensione piuttosto generosa, sì lo so, sto confrontando 250 euro con più di 800, però è curioso insomma vedere questo dettaglio, no? The Rock è da, aspettate che chiudiamo, The Rock è da 5,2 pollici, guardate la superficie totale è superiore a quella da 5,8 del Galaxy S8, poi sappiamo che il Galaxy S8 ha una razio da 18,5 noni e invece qui siamo ai 16 noni tradizionali. Caratteristiche tecniche, allora diamo un attimo un occhio ancora da vicino a questo telefono che insomma diciamo tutto sommato è una specie di calamita per le ditate, ma una fotocamera molto molto semplice, questo menu che vedete con lo scorrimento in questa parte ci ricorda qualcosa, no? Probabilmente quello di iPhone, anche questo tastone che diventa rosso per fare i video e bianco per le fotografie, diciamo che è qualcosa che abbiamo già visto. Avete molte possibilità di, diciamo, selezione del funzionamento della fotocamera, vedete che potete anche farla diventare un lettore di codice a barre o di QR code, potete scegliere di far scattare la foto quando essenzialmente fate il sorriso, avete la possibilità di fare uno screen capture, insomma sono davvero molte le modalità di utilizzo di una fotocamera che tutto sommato è di buon livello quando c'è molta luminosità, diciamo che non è il massimo invece quando la luminosità va a scendere. Batteria di 3000 mAh, è una batteria non rimovibile, non la potete raggiungere in pratica, non potete essenzialmente cambiarla, avete 3 giga di RAM e come processore lo Snapdragon 430, questa è la ragione per cui vi ho detto probabilmente non sceglierete questo telefono per la parte tecnica. Vi porto ancora una volta sul display, vediamo un attimo, allora chiudiamo, vedete tutto sommato la reattività buona ma non esagerata, apriamo la navigazione, vedete un buon livello di qualità, livello proprio di apertura dell'applicazione, vediamo un attimo, adesso purtroppo ci sono le notizie che sto registrando nel giorno successivo purtroppo alla vicenda di Manchester, quindi queste sono le prime notizie che appaiono, aspettiamo un secondo che la prima pagina di Corriere.it si faccia vedere, che si è completato il caricamento, vedete qui in questo momento siamo collegati comunque alla rete Wi-Fi, completato il collegamento, vedete Snapdragon 430, tutto sommato gestisce con una discreta velocità, ogni tanto qualche imprecisione, però insomma non si può pretendere tantissimo. Hisense sceglie Touchpal come tastiera, è una delle tastiere che mi piacciono di meno nel mondo Android, però poco male perché lo sapete che le tastiere nel mondo di Android potete cambiarle come volete, io sono tornato ad utilizzare SwiftKey come la migliore tastiera del mondo Android, superiore secondo me anche a quella di Microsoft, la scelta invece di Hisense è quella di Touchpal. Vi faccio sentire anche velocemente, se riusciamo a sentirlo grazie al collegamento rete che è sempre problematico qui da noi, vorrei farvi sentire lo streaming di Radio Number One per sentire l'audio, eccolo. Vedete, un audio molto forte, stereo tra l'altro, vedete? Ecco, spegniamolo perché altrimenti YouTube ci cappa, vedete? Un audio stereo con un volume molto alto con una definizione del suono che tutto sommato è così così. Allora, vi ho detto dunque, Snapdragon 430, 3 giga di RAM, 3000 mAh di batteria, 5,2 pollici di display, 5 megapixel la fotocamera frontale che è così così, 16 megapixel invece per la fotocamera posteriore, aspettate che vado a vedere, è inutile che faccia finta, sì, 16 megapixel, non mi faccia finta di ricordarmelo a memoria, cioè io almeno ho il coraggio di farvi vedere che leggo i dettagli, 16 megapixel per la fotocamera, buona qualità quando si fanno foto con molta luce, quando invece scende un po' la luminosità il rumore prende un po' il sopravvento. Però come vi ho detto, secondo me per The Rock la caratteristica principale è quella della certificazione IP68, costa 250-260 euro più o meno online, se vi serve un telefono resistente, soprattutto magari dovete fare lavori in cui rischiate il contatto con l'acqua, può essere una scelta giusta, Isense C30 Rock.